Buongiorno ragazzi, stanno riuscendo in quello che non volevo assolutamente che accadesse, dividere gli italiani e i russi, non Putin da draghi, ma gli italiani dai russi. Sentite cosa ha detto Medved, che non sono per niente d'accordo, ci ha dato dei mangiaspaghetti, il classico stereotipo contro gli italiani. Perché anche voi accettate, voi russi, di cui ho stima della popolazione russa, accettate questo gioco di prendervela con la popolazione, la popolazione non c'entra niente, prendetevela con i governanti, lasciate stare. Quindi draghi non gli devi dare del mangiaspaghetti perché è un'offesa all'Italia, gli devi dare del lobbista, gli devi dare del banchiere, quello sì, se no cos'è anche voi oligarchi, andate a torraccare i punti veri, che sono dell'establishment, quello peggiore, che fanno gli interessi delle banche. Allora Medved, abbi il coraggio di dire invece che mangia spaghetti come il popolo, banchiere, banchiere del cavolo, quello dovevi dire, non mangia spaghetti. Voi, ovunque vuoi, che varmi la pazzione, Voi, ovunque vuoi, Voi, ovunque vuoi,